Io personalmente me ne frego Ravanta bianca, fascetta nera Aspetta e spera che il paese va in miseria Chi se ne frega del sindacato Qui conta solo da chi sei sponsorizzato Allora mi chiamo Stefano Pillori, il cognome Il nome del gruppo è Venodrama Lo ripeto, Venodrama E niente, le prime sensazioni dopo un viaggio estenuante per il centro di Napoli Però ce l'abbiamo fatta ad arrivare fino a qui Le prime sensazioni sono un locale molto bello Quindi insomma siamo convinti di riuscire a fare un ottimo live Se riusciremo a trovare tutte le prese di alimentazione Che in questo momento mancano La nostra musica sono pillole antidepressive allo stato brato praticamente Quindi insomma è una buona musica, molto energica È un bel rock, un alternative rock abbastanza tolto, abbastanza energico Contesti molto particolari, italiani, graffianti Che raccontano un po' quello che è la società di oggi Quello che purtroppo è la nostra società di oggi Però in maniera molto grintosa Quindi ecco perché sono pillole antidepressive Io la definisco così La sera del 20 maggio mi sembra che ero a casa con lui Però non posso raccontare di più Ah non si può dire Non si può dire, no Sono sposato A fare il ginnastica Ah no, a provare la sezione ritmica Esattamente Non sapevo che devo stare incollato in basso batteria Se bruciano le pene Se bruciano le pene Se bruciano le pene Riproverò mio nonno con gli stracci di cantina Che prepara da mangiare Riproverò mia nonno con gli stracci di cantina Che prepara da mangiare Riproverò mia nonno con gli stracci di cantina Che prepara da mangiare Che bella che è mia nonno con gli stracci di cantina Che prepara da mangiare Che bella che è mia nonno con gli stracci di cantina Che prepara da mangiare Riproverò mia nonno con gli stracci di cantina Che prepara da mangiare